Qui a Soccerex, Nicola Embriani, per quattro anni fisioterapista all'Udinese, adesso ti sei messo in proprio e hai in mente un progetto molto particolare, di che cosa si tratta? Sì, allora, sono venuto qui a Manchester, al Socceres, che è la fiera più importante a livello mondiale per quanto riguarda il calcio, a presentare in esclusiva, a questo punto direi internazionale, il mio metodo, il metodo Dynamics, un metodo assolutamente innovativo che aiuta le squadre professionistiche a risparmiare tempo nel recupero dei giocatori, questo significa anche un guadagno in termini economici. Fino a questo momento che risposte hai avuto dalla Serie A, comunque dal campionato italiano in generale? Non posso fare nomi ovviamente, molto molto buone, posso dire che ho aiutato diversi giocatori ad ottenere risultati importanti, anche se magari avevano provato altre tecniche, altri modi di lavorare, devo dire che sono molto molto soddisfatto. È un metodo, vale la pena parlare di questo metodo? Di che cosa si tratta? Allora, brevemente, quando un calciatore viene da me o arriva da me con una diagnosi, io non prendo completamente tutti gli aspetti di questa diagnosi, ma la tengo come in un cassetto, ovvero la diagnosi non può essere assolutamente precisa a priori, sì che io identifico la zona del dolore o della lesione, prendo questa zona e faccio una risonanza magnetica mentale, ovvero la taglio a sezioni. Ogni sezione di questa zona, che per me è un tessuto, viene trattata con una terapia specifica, ma molto specifica. Questa terapia, alla fine, dà un effetto, una risposta terapeutica. In base alla risposta terapeutica capisco quale dei tessuti che io ho individuato in quella zona è maggiormente o in maniera minore responsabile del dolore. Quindi io faccio una classifica ogni volta che tratto un tessuto, che è continuamente aggiornata e che alla fine del trattamento di tutti i tessuti che compongono quella zona, dà una classifica finale che a volte elimina alcuni degli elementi che io pensavo fossero causanti il dolore. Alla fine della seduta, che può durare 30-40 minuti, della prima seduta, io so già quali sono gli elementi causali del problema. E quindi è una rivoluzione, perché io dalla seconda seduta in poi non perdo tempo e quindi velocizzo moltissimo, moltissimo recupero, anche per il fatto che trattando più tessuti tratto questi tessuti con tante terapie diverse e quindi il tessuto risponde molto più velocemente. C'è qualche giocatore che adesso hai in mente di provare a far recuperare nel minore tempo possibile? Io vorrei provare a curare Balzaretti se è possibile, perché secondo me si può fare qualcosa, possiamo provare a recuperarlo. Io ci metto la faccia, ci metto il nome, sono a disposizione, lo aspetto a Udine, chiaramente in accordo con la Roma, in accordo con il suo procuratore, se loro lo ritengono. Io sono a loro assoluta disposizione, come a disposizione di tutti i calciatori, con molta umiltà ma con molta voglia di far vedere che questo metodo è veramente eccezionale ed è il motivo per cui io sono qua al Socarex. Naturalmente sei estremamente fiducioso di farlo tornare al 100% Balzaretti. Io spero di sì, voglio confrontarmi chiaramente con uno staff medico della Roma, assolutamente, e vedere che cosa si può fare di meglio e di più. Io sono sicuro che si può fare qualcosa di più, non di meglio perché il lavoro degli altri io lo ammiro sempre tantissimo, soprattutto uno staff importante come quello della Roma. Grazie a tutti.